Ben ritrovati, l'ASVI, Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile, è indetto per il 29 settembre la prima giornata internazionale contro lo spreco alimentare. Il Banco Alimentare da sempre promuove politiche a favore della lotta allo spreco alimentare e a sostegno della povertà ed esclusione sociale, collaborando con le istituzioni europee e nazionali. Per parlare di questa importante realtà abbiamo ospite Francesco Galieni, responsabile del magazzino di San Benedetto del Banco Alimentare. Allora, per quanto riguarda la lotta allo spreco, il Banco Alimentare da sempre, il suo motto è contro lo spreco, contro la fame. Nel 1989 il Banco Alimentare nasce proprio come lotta allo spreco, recuperando le eccedenze delle aziende alimentari per poi redistribuirle alle strutture caritative, agli enti che sono associate alla nostra rete. Infatti il nostro marchio, il nostro logo del Banco Alimentare fondamentalmente è costituito da due frecce, una freccia che indica il recupero e una freccia che indica la redistribuzione. Al centro ho disegnato un simbolo del pane, che da sempre è il simbolo della fame. Francesco, il fenomeno dello spreco alimentare è evidente anche nelle Marche. Con chi collaborate e come ridurlo? Noi nelle Marche abbiamo circa 300 associazioni alle quali distribuiamo i genere alimentare che recuperiamo da parte delle aziende alimentari, ma anche dalla grande distribuzione e anche dalla ristorazione. Abbiamo due magazzini, uno a Pesaro, che serve le province di Ancona e Pesaro, e uno qui a San Benedetto, dove abbiamo gli enti della provincia di Ascoli, Fermo e Macerata. Per quanto riguarda San Benedetto, vi siete posti il problema dello spreco alimentare anche nel rapporto con le istituzioni e le aziende, stilando la carta di San Benedetto. Di che cosa si tratta? Nel 2017 abbiamo promosso un'iniziativa con altre associazioni, la Concommercio, la Conpartigianato, ma adesso non me le ricordo tutte, però avevamo fatto un accordo sulla lotta allo spreco, e quindi un loro contributo a cercare di sensibilizzare le aziende verso donazioni che vanno fatte alla nostra rete per poi ridistribuire gli alimenti. Noi sostanzialmente recuperiamo da aziende prodotti vicino alla scadenza, prodotti che non sono commerciabili, però diamo valore a questi prodotti, oltre a ridare valore economico, ma diamo anche un servizio ambientale, perché altrimenti questi prodotti dovrebbero essere smaltiti in discarica, quindi con problematiche, aumento di CO2, eccetera. Francesco, abbiamo pochi secondi a disposizione per chi ci sta ascoltando e vuole diventare un volontario del Banco Alimentare. Cosa deve fare? Noi siamo presso il Centro Alimentare di San Benedetto del Tronto e attualmente abbiamo una rete di volontari che aiuta il nostro lavoro, è quello di recuperare le eccedenze attraverso un autista che gira e va a raccogliere i prodotti nelle aziende. Più abbiamo bisogno di persone che ci danno la mano nei giorni della distribuzione. Naturalmente il lavoro è prettamente manuale perché aiutiamo gli enti a caricare sui loro furgoni dei pacchi di genere alimentare e distribuiamo tutti i martedì, tutti i giovedì e due sabati al mese, cioè 10 giorni al mese noi facciamo questo servizio al centinaio di enti che abbiamo nella nostra zona. Grazie a Francesco Galieni, al Banco Alimentare vi auguro buon proseguimento su Radio Azzurra.